Uè, non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono XIUDER e ragazzi, anche oggi giornata importantissima per quello che riguarda le novità di Fortnite. Giovedì ovviamente, settimana numero 8 di questo capitolo 1, o meglio di questa season 1 del capitolo 2, che ci regalerà al compimento delle missioni la skin segreta, sappiamo tutti che si chiama Sorana. Quindi, nuovi video anche questo pomeriggio per risolvere un paio di cose che vi chiederanno nelle sfide e tanta tanta attesa per vedere come sarà veramente in-game questa nuova skin. Nel video di oggi però parleremo di un'accusa mossa contro Mongral e i membri del suo team durante le FNCS, quindi i tornei quelli seri di Fortnite accusano Mongral di fare stream sniping. e abbiamo tra l'altro un video molto molto particolare proprio suo che lascerò a voi giudicare. Parleremo ovviamente anche delle sfide di questa settimana, le vedremo insieme, in modo da farci già un'idea di quello che dovremo aspettarci e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e per il vostro supporto e un grazie anche a chi utilizza il mio codice creatore, Xioderone. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Ma prima la domandina ve la devo fare, ve la faccio sempre, mi rispondete sempre in tantissimi qua sotto. Anche oggi domanda molto interessante, ma ditemi un attimo cosa ne pensate di questa skin segreta? Oh, Fortnite oramai ci è venuto in mente che a quattro settimane dall'arrivo della skin segreta ma devono fartela vedere, non ho capito perché questa cosa. Alla vostra destra la vedete Sorana con due stili personalizzabili, è una skin leggendaria. Allora, a me piace, veramente molto molto bella come skin, forse non come skin segreta. L'avrei un pochettino vista, magari con una versione alter ego nel pass battaglia. Ditemi invece cosa ne pensate voi di questa skin qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del primo argomento e alle mie spalle si parla di patch 11.30. Questa settimana sembrerebbe essere saltata. Questo video è registrato prima di giovedì, quindi potrebbe essere apparso un pop-up nella lobby, ma non credo. Oramai, come detto, c'è un po' di anarchia nello staff di Epic Games. Alle mie spalle appunto tre delle skin che ancora non sono state rilasciate. Il Baobros, leggendaria skin, scoperta per la prima volta al termine della season 6. Al centro Shifu, una skin che tutti ci aspettavamo di vedere sul finire della season 10 che non è arrivata e dall'altra parte Mr. Testa di Palloncino, che non ricordo in realtà come si chiama, che si pensava essere la skin dei bot. In questa season non è successo, non è stata rilasciata, staremo a vedere. Ma abbiamo invece delle notizie molto interessanti ed ufficiali sui bug fissati nella patch 11.30 appena arriverà. Il primo ragazzi è un discorso di FPS. Il mostrare gli FPS adesso non è possibile perché deve esserci stato un errore nel nuovo menu verrà fissato e ovviamente sarà disponibile nuovamente mostrarli. Un'altra cosa per quanto riguarda il Battle Royale alcuni hanno problemi con i gettoni di rimborso. Sono mostrati in maniera non corretta, verrà sistemato e tutti li vedranno finalmente nella maniera esatta. Per quanto riguarda invece la modalità creativa, il marker delle rotazioni della mappa non è in linea, quindi non è proprio dritto quando utilizzi il coso per ruotarli con il telefono che si utilizza in creativa. Io non gioco mai la creativa, però penso che ci sia qualche problema nel puntare e nel modificare gli oggetti che vengono posati verrà fissato anche questo. Per quanto riguarda invece la Nintendo Switch modificheranno, o meglio miglioreranno, i dettagli per quello che riguarda le costruzioni. Quindi speriamo ovviamente che non affliggano poi la performance della console. E di nuovo nel Battle Royale, parlando in realtà dell'arena, ci sono alcune cose, alberi e roba di metallo che in realtà non danno legno e metallo. Quindi sistemeranno anche questa cosa e sarà tutto ok. Per quanto riguarda l'ultimo bug fissato in salvo al mondo, non si può accedere ai parti tramite invito. Probabilmente sta succedendo adesso. fixeranno questo e lo sistemeranno. Insomma ragazzi, qualcosa sulla 11.30 già la sappiamo. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi. Eccolo qua ragazzi. Lo seguiamo spesso quando vado a commentare i tornei della Cash Cup durante il pomeriggio. Il nostro mongrel, sebbene un animale, è stato accusato pesantemente da BloodX, sto leggendo in questo momento proprio i tweet ufficiali che si lamenta pesantemente di quello che ha fatto il suo coach, il coach di mongrel, durante appunto le FNCS, quindi le Fortnite. non mi ricordo qual è l'acronico delle FN, le Championship Series. Ho letto, ho letto. Vi voglio far vedere, prima di dirvi una cosa. Cosa dice? Praticamente il coach di mongrel dava, diciamo, delle dritte, tra virgolette, su quello, su un team che era vicino a mongrel e giustamente il tweet di questo ragazzo che fa parte di un altro team, vi ricordo, si sono qualificati quarti, quindi hanno portato via 8000 dollari, mongrel e il suo team, dice, va bene che tu hai, sto traducendo il tweet, va bene che tu hai ovviamente un coach che ti aiuta durante il tuo game, però non mi sembra giusto che questo coach abbia la possibilità di vedere i gameplay degli altri giocatori H-Stream-Sniping, quindi ti dice, in poche parole, dove devi andare. Questa cosa si evince, si capisce un pochettino, o meglio, è un po' strano quello che è successo in questo video. È molto piccolo perché è ripreso da un cellulare, infatti non esiste più sui vari social di mongrel questo spezzone e non dovrebbe esserci neanche più la stream di questa diretta, eccolo qua ragazzi, sentite mongrel che parla sotto che è gasato come una sprite agitata perché gli stanno dicendo che c'è appunto questo team che loro conoscono vicino a loro. Cosa stanno facendo? Sì, spara, 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 mi ha un po' partito qua il mongrel, chiedo scusa che è molto piccolo. Praticamente lì davanti Destiny gli dice che faceva parte e qua sei tossico come il veleno in questo momento. Praticamente Destiny tried to drive, shoot them, shoot them, cioè spara, spara, appunto questo ha fatto un pochettino destare l'arrabbiatura e vedremo se verranno sanzionati per quello che è successo appunto durante questo fatto. E andiamo avanti, parliamo della schermata di caricamento della settimana numero 8 che si chiama diving se non ricordo male, schermata di caricamento che nasconde anche la lettera segreta che è come vedete vi faccio indicare in alto sopra il lampione la lettera E di Fortnite ovviamente l'ultima che compone la parola ci servirà appunto per sbloccare finalmente la skin segreta Sorana. Tra l'altro ci sono anche delle location molto interessanti probabilmente non saranno disponibili in questa settimana ma nell'ultima il backpack e il piccone di Sorana avevo già accennato delle coordinate e uno sguardo veloce alle sfide ci fa vedere appunto quello che dobbiamo fare fai danno ai drop che stanno scendendo fai delle eliminazioni ad idro 16 che è la centrale elettrica quella vicino a putridopantano oppure holly edge che non ricordo esattamente la traduzione cerca un supply drop dopo 10 secondi che è atterrato aprirlo in poche parole completa i time trial in mare quei loghi che si vedono ogni tanto in mezzo ai fiumi e non si capisce che cos'erano sono i time trial che arriveranno in questa settimana elimina tre giocatori se non ho capito male senza mirarli tira su con la canna da pesca un oggetto prendi un giocatore avversario e prendi un pesce in realtà sono tutti e tre con la fiocina non con la canna da pesca fai danno agli avversari dopo 30 secondi che è stato usato un deltaplano quindi praticamente allo start cerca due forzieri in distanza di 30 secondi uno dall'altro fai 300 di legna dopo 60 secondi che sei atterrato dall'outbus della battaglia fai danno con due armi diverse in 30 secondi e ovviamente cerca la lettera E insomma ragazzi anche per oggi tantissime notizie per quello che riguarda Fortnite io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live su Twitch alle 8 ciao un bel pollicione in su un bel pollicione in su